Abbiamo qui con noi la dottoressa Viola Ferrario, Marketing Manager di Philips Lighting Solutions per Italia, Grecia e Israele, e il professor Francesco Murano. Francesco Murano è docente del Laboratorio Luce del Politecnico di Milano ed è uno tra i nostri massimi esperti di illuminazione e di opere d'arte. La puntata l'abbiamo chiamata Luci della città perché andiamo a parlare di illuminazione pubblica perché anche la luce è una componente molto importante della smart city o delle città del futuro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.